L'amministrazione comunale di tre mestieri stigmatizza il furto coscasso ad opera di ignoti avvenuto nei giorni scorsi alla scuola matenar di via Garro, facente parte dell'istituto comprensivo Edmondo De Amicis, plesso che in questi giorni peraltro è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria. I vandali, secondo una prima ricostruzione, una volta entrati avrebbero divelto al madietti, rotto vetri, scritto sui muri frasi volgari, soprattutto nella palestra. L'amministrazione comunale si è attivata per ripristinare lo stato dei luoghi e sono state predisposte ulteriore pulizie rispetto a quelle precedentemente eseguite, anche se è già corsa contro il tempo per lunedì alla ripresa piena delle elezioni, con alcuni genitori che nella mattinata odierna hanno già mostrato perplessità sulla pulizia dei locali. La dirigenza dell'istituto comprensivo ha presentato regolare denuncia ai carabinieri e alla polizia locale, che ha presa la notizia, sono intervenuti prossimamente sul luogo, effettuando rilievi e avviando le indagini che sono tuttora in corso. Il sindaco Rando, in una nota, si scusa per gli eventuali disagi causati dall'inciviltà che sconfina nella delinquenza dei soggetti che hanno causato l'indignazione, scrive il primo cittadino della società civile, e invita a chiunque fosse in possesso di informazioni inerenti l'atto vandalico di rivolgersi alle locali forze dell'ordine, affinché si possano identificare al più presto i responsabili per assicurarli alla giustizia.